MDF Italia è un'azienda che rappresenta il meglio dell'industria italiana dell'arredamento di design. Rispecchia nella sua ideologia aziendale questo desiderio di leggerezza, di spazialità, che penso lo showroom in cui ci troviamo nella dimostrazione più chiara. Sono il designer di Mamba, che è l'oggetto che vedete qua accanto a me. È stato inserito a catalogo MDF da quest'anno, dopo che l'anno scorso ho vinto, con questo mio progetto, il concorso organizzato da MDF Italia insieme alla Crystal Plant. È una mensola scrittoio pensata per le esigenze della casa moderna. Ho voluto unire in un oggetto solo un piano d'appoggio. La mensola è una luce di cortesia che ti permette di non staccare gli occhi. Il segno grafico che univa queste tre funzioni, alla fine ha richiamato questa forma organica del serpente. E sendo io un grande fan di Tarantino, mi veniva in mente il Black Mamba di Kill Bill. Allora ho detto, questo è The White Mamba. È essenziale e poco ingombrante che penso possa essere inserito sia nella zona giorno ma anche nella zona notte. Ovunque possa esserci uno spazio di un metro e cinquanta dove appoggiare a parete questo oggetto e dove uno può metterci sì, il tablet piuttosto che un pc portatile. Esendo fatto in Crystal Plant, volendo uno lo può mettere anche in band. Quindi è altamente versatile e penso che per le piccole case in cui ci dobbiamo abituare a vivere torno utile alla vita di tutti i giorni. MDF Italia è un'azienda che rappresenta il meglio dell'industria italiana dell'arredamento di design. Mi rispecchia...